Salve amici del Centro Medio Italiano, qualche pioggia in arrivo nel weekend e poi possibili maggiori ondulazioni per la seconda settimana di ottobre. Vediamo la tendenza. Fino a sabato tempo per lo più asciutto grazie ad un campo di alta pressione disteso sul Mediterraneo. Nel corso del weekend avremo però un cedimento dell'alta pressione con infiltrazione di aria più umida in quota che porteranno molte nuvole e anche qualche pioggia. Domenica fenomeni possibili soprattutto sulle regioni del nord ovest, sulla Sardegna e localmente sui settori interni del centro. Da monitorare invece la prima parte della prossima settimana quando una più ampia ansa depressionaria potrebbe portare maltempo segnatamente al sud. Oggetto che potrebbe farsi più ondulato non prima della metà del mese con possibilità di una perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo. Chiudiamo con uno sguardo alle temperature che fino a domenica saranno di qualche grado sopra le medie, specie al centro nord. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro italiano.